Leggere è una ricchezza immateriale della quale non possiamo fare a meno, l'ha detto Sergio Mattarella nel 2019 in occasione del 150esimo anniversario dell'associazione italiana Editori. Leggere sarà anche una ricchezza della quale non possiamo fare a meno, ma è piuttosto aggettivo che in Italia, come lettori facciamo abbastanza schifo. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati con questo nuovo video dedicato alla serie di professionismo e stereotipi di genere nel book influencing femminile. Nell'ultima puntata abbiamo parlato della contraposizione tra book influencer e i critici letterari tradizionali, classici. Oggi, dopo una rapida panoramica sul mercato editoriale italiano, parleremo invece di book influencer come professionisti del settore e cercheremo di capire come si inseriscono all'interno del mercato editoriale italiano. E parleremo ovviamente anche di come le case editrici si approcciano al mondo digitale e alla comunicazione social. Perché dico che in Italia come lettori facciamo piuttosto schifo? Beh, perché in Italia abbiamo una produzione di libri molto alta, molto forte, ma un consumo di libri molto molto basso. Infatti, dati che salgono al 2018, soltanto il 40% degli italiani legge almeno un libro all'anno. Attenzione, non un libro al mese, un libro all'anno. Quindi solo un italiano su due, anzi meno di un italiano su due, legge almeno un libro all'anno. La produzione invece è piuttosto consistente. Pubblichiamo tra i 70 e gli 80 mila titoli l'anno, escluso tutte le varie pubblicazioni fatte sui canali self e canali non ufficiali. Nel 2018, che è l'ultimo dato che ho a disposizione, abbiamo pubblicato in Italia 75 mila titoli. Abbiamo tantissime piccole case editrici in Italia. Sono circa 1500 gli editori attivi sul suolo italiano e oltre il 50% di questi pubblica meno di 10 titoli in anno. Sono quindi piccole case editrici. Gli editori sono concentrati soprattutto nel nord Italia e pubblicano un po' di tutti i generi. Alcune sono specializzate su genere in particolare, altre fanno di tutto un po', ma nel complesso non c'è un genere pre-dominante in Italia. Quattro libri su 10 nel 2018 sono stati resi disponibili anche in digitale, quindi in ebook. Questo ovviamente è segno del fatto che, piano piano, piano piano, molto lentamente, ma ci stiamo avvicinando alla contemporaneità. Iniziamo anche in Italia a rendere disponibili libri digitali. Gli editori partecipano moltissimo alle fiere e ai festival letterari. Sono uno dei principali mezzi per accedere al pubblico. O meglio, lo sono stati fino a prima della pandemia, perché vi ricordo che questa serie di video è basata sulla mia tesi di laurea. E io la tesi l'ho scritta. Ho iniziato a scriverla a Dappaile del 2020. Quindi i dati relativi alle problematiche causate dalla pandemia non erano ancora disponibili. Quindi teniamoci buoni questi dati, perché comunque sono validi per avere una panoramica, un'idea generale della situazione editoriale italiana. Se la produzione di libri è molto ricca, come abbiamo già detto, invece il consumo di libri è scarso, basso, se non penoso. Infatti solo il 40% degli italiani legge almeno un libro all'anno, come abbiamo già detto. Però in questo deserto di desolazione c'è almeno una cosa positiva, una luce, una speranza. Il fatto che i lettori più forti sono i ragazzi. Infatti gli adolescenti tra i 15 e i 20 anni, soprattutto le ragazze, sono i lettori più forti all'interno di tutta la popolazione italiana. Sono quelli che leggono di più. Nello specifico tra i ragazzi tra i 15 e i 17 anni, il 54% di essi sono lettori. E bisogna anche ammettere che le donne premezzano come lettrici. Infatti sono molte più le donne lettrici che gli uomini lettori. E questo vale per tutte le fasce di età. Infatti sul numero complessivo di donne presenti in Italia il 46% sono lettrici. Mentre per quanto riguarda gli uomini solo il 34% di essi sono lettori. Per concludere però con una nota deprimente questa prima parte del video, vi comunico che una famiglia su 10 in Italia non ha nemmeno un libro in casa. Cioè non hanno comprato mai nemmeno un Geronimo Stilton per sbaglio. Il mondo è sempre più connesso. Frase ovvia, banale e scontata, ma veritiera. Infatti il numero di utenti di internet tra il 2019 e il 2020 è aumentato del 7%. In Italia l'82% della popolazione utilizza internet e ci sono 35 milioni di persone iscritte ai social. Social che oggi sono uno degli spazi che offre maggiori opportunità commerciali per le aziende. Tra queste aziende sono incluse ovviamente anche le case editrici. Case editrici che nel corso degli ultimi anni hanno imparato ad adattarsi a un nuovo sistema di comunicazione, a un nuovo modo per raggiungere i propri utenti senza ovviamente dimenticare la cara, vecchia interazione faccia a faccia. Infatti se ci sono alcune case editrici, soprattutto piccole case editrici, che non hanno mai superato i tempi del web 1.0 e quindi sono rimasti a dei siti web assolutamente statici e poco attrattivi, d'altra parte ci sono invece molte case editrici che hanno imparato ad adattarsi alle novità e sono assolutamente al passo coi tempi. Queste case editrici stanno infatti a combinare in maniera adeguata una produzione top down con una bottom up, ovvero sono in grado di produrre propri contenuti attrattivi, accattivanti, soprattutto contenuti promozionali, ma allo stesso tempo riescono a riutilizzare in maniera creativa, produttiva, efficace anche i contenuti realizzati dai propri utenti, dalla propria community. Per esempio ricondividono e riutilizzano recensioni, citazioni, commenti di vario tipo, immagini dei propri utenti. Così in questo modo raggiungono il doppio obiettivo di far sentire i propri lettori, la propria community, i propri utenti, parte di una grande famiglia di lettori e al tempo stesso risparmiano tempo, denaro, energie nella produzione di contenuti. Un caso che esemplifica bene la capacità di stare al passo coi tempi nella comunicazione è quello della Mondadori, celeberre una casa editrice italiana, che nel 2012 ha istituito la figura del digital PR, è stata una delle prime case editrici a farlo e io per la mia tesi, appunto professionismo e storiato di genere, nel book influencing femminile, ho avuto l'occasione di intervistare Anna D'Arè, che appunto ricopre questa carica, la carica di digital PR della Mondadori, dal 2012, quando è nata. Nel corso dell'intervista Anna ha definito in questo modo la sua professione. Ve lo leggo direttamente dalla tesi, che è questa. È un lavoro di precisione di rapporti con le singole persone. Comporta molto studio perché è importante conoscere i propri interlocutori e i libri che si propongono. Tra gli interlocutori fissi di Anna D'Arè ci sono sicuramente i book blogger. Infatti la capacità dei book blogger di ispirare fiducia ai lettori e perché no di spingerli nella direzione dell'acquisto è andata aumentando nel corso degli ultimi anni. Infatti ormai il 10% dei lettori si fida dei consigli della community online, in particolar modo di quelle figure che ritiene assolutamente affidabili perché dotate di buon gusto. E in questo caso cito direttamente le parole che emergono dai sondaggi rivolti ai lettori. In particolar modo l'attività dei book influencer è efficace sui lettori più giovani, agli sotto dei 35 anni e in particolare sui lettori forti, ovvero su coloro che sono già abituati a leggere molto e acquistare molti libri. E mentre cresce il valore anche commerciale dei consigli dei book influencer, sta al contempo perdendo terreno la stampa cartacea, il consiglio del critico letterario sul giornale. Sta retrocedendo, perdendo rilevanza dal punto di vista dei lettori. Ovviamente come ribadisce anche Anna D'Arè, i book influencer non vanno messi su un piedistallo, perché non sono magici e non basta la recensione su un canale YouTube o su un blog per portare migliaia di vendite. Però i book influencer sanno far bene una cosa, dare avvio al dialogo, a quel tanto agoniato e assolutamente necessario dialogo. Dialogo che è proprio ciò che online muove le masse, cattura l'attenzione, fa sentire gli utenti parte di una famiglia, apprezzati, coinvolti, ascoltati, fa credere loro di avere un valore anche per l'azienda. E se è vero che le grandi case editrici sono le più abili nel gestire la comunicazione online, mio parere personale, le piccole case editrici dovrebbero muoversi nella stessa direzione, perché dove una Mondadori o una Feltrinelli hanno accesso anche ad ampi spazi fisici, sono le librerie, le librerie di catena soprattutto, i piccoli editori invece dovrebbero forse imparare a sfruttare in maniera più proficua la presenza online per aumentare le vendite attraverso questi canali trasversali. Nessuno sa esattamente quanto sono influenti i blog letterari. Questo perché calcolare il numero di blog o di bookstagrammer o di booktuber o di booktiktoker è pressoché impossibile. Esistono milioni e milioni e milioni di pagine dedicate al tema Libri e calcolare le visualizzazioni di tutte queste pagine è impossibile. Così come è impossibile riuscire effettivamente a calcolare il tasso di conversione di tutto questo mondo, ovvero quale massa di lettori muovono i book influencer, nel concreto non è possibile calcolarlo. Ma d'altra parte, più book influencer ci sono, meglio è per il mercato editoriale, perché non costano niente e alla meglio portano vendite per gli editori. I book influencer sono infatti gli influencer più poveri della terra, perché i book influencer non vengono retribuiti quasi mai per il lavoro che svolgono. Lo fanno per passione, o almeno così preferiscono credere in generale tutti gli editori che sfruttano la visibilità e gli spazi delle pagine dei book influencer. Anna D'Arresto sostiene che in un paese che legge pochissimo, riuscire a vendere anche solo un libro in più fa solo bene. Quindi più book influencer ci sono, meglio è. Tanto appunto, per l'azienda non costano assolutamente nulla. Anna D'Arresto tiene in particolar modo a sottolineare che alcuni di questi book influencer lavorano su delle nicchie microscopiche, su parti di pubblico molto ridotte o molto specifiche. Quindi per riuscire a raggiungere il pubblico più vasto possibile, tanti book influencer sono necessari. E questa è anche una delle ragioni per cui i book influencer tendono negli ultimi anni a diventare una presenza fissa, costante e rilevante all'interno delle varie fiere festival dell'elitoria. È infatti ormai diventata consuetudine concedere ai book influencer un accredito stampa, quindi il pass stampa, per accedere appunto ai festival con alcune agevolazioni. Arriviamo ora alla domanda cruciale di questo video. Ma i book influencer possono essere considerati dei professionisti? Secondo Anna D'Arresto no, non è così. Non sono dei professionisti perché fanno quello che fanno per passione, per passatempo, per piacere personale. Ed effettivamente se ci atteniamo alla definizione treccani di professionista, la maggior parte dei book influencer non rientra in questa categoria, perché professionista è soltanto chi esercita una professione intellettuale o liberale come attività economica primaria. E visto che la maggior parte dei book influencer svolge la propria attività in maniera gratuita e quindi senza alcuna retribuzione e di sicuro non vive di book influencing, no, la maggior parte dei book influencer non è a livello di definizione professionista. Però ovviamente esistono delle eccezioni. Quindi se ci sono tantissime ragazzine, mamme, casalinghe o donne che nella vita sono professioniste in tutt'altro settore e che fanno questa attività di book influencer come appunto passatempo, come piacere personale, esistono però al contempo alcune professioniste del settore, ovvero alcune rappresentanti della categoria book influencer che sono riuscite a fare del book influencing e di attività connesse le loro principali attività, quindi attività redditizie che permettono loro di vivere. Sono quindi professioniste del settore. E quasi tutte le donne citate da parente nel famoso articolo all'origine di questa tesi sono professioniste della comunicazione letteraria. Tra queste troviamo Petunia Hollister, Carolina Capra e Veronica Giuffré che ho intervistato tutte e tre per la mia tesi. Allora, per chi non le conoscesse, Petunia Hollister, che è il nome d'arte di Stefania Soma, ha lavorato 15 anni nell'ambito della conservazione dei beni culturali e poi ha iniziato a pubblicare gli hashtag book breakfast, ovvero l'associazione tra libri e prodotti alimentari adatti per la colazione, tazzine e quant'altro. Quelle bellissime immagini di tazzine e cose carine che evidentemente a parente fanno abbastanza schifo e gli turbano l'anima. Petunia Hollister ha collaborato con Radio Rai, La Repubblica, La Stampa e lei è su Instagram dal 2011, quando ancora il social era agli albore. Ci ha visto un'occasione e l'ha colta. Altro nome che compare nella mia tesi, nelle interviste in appendice, è Carolina Capra che nel 2018 ha aperto l'account, l'ha scritto Una Femmina e l'ha aperto dopo che un bambino le ha detto I tuoi libri sono divertenti, non sembrano scritti da una femmina. E allora tra i suoi scopi ha vostro l'obiettivo di sfatare l'idea comune che i libri scritti dalle donne siano adatti solo, o perlomeno soprattutto, al pubblico femminile. Nei suoi spazi Carolina, che nella vita è anche autrice, tratta di attualità modelli letterari e vissuti quotidiani e si occupa di questioni femministe a 360 gradi. Veronica Giuffre, invece, è la proprietaria dei Calzini Spaiati è laureata in musicologia e ha una laurea magistrale in comunicazione, editoria, giornalismo. E oltre a occuparsi dei propri social, quindi appunto i calzini spaiati, è anche social media manager per un paio di editori. A chi le chiede se si considera una professionista, lei è solita rispondere. Ho una retribuzione fissa a dimostrarlo. Una menzione merita sicuramente anche Ilenia Zodiaco, riconoscita da numerose ricerche e classifiche come la book blogger più celebre e influente del web. Ma una menzione merita anche Giulia Cerapica, citata già nell'articolo di parente, e anche una delle professioniste che ho intervistato per la mia tesi di Laura. Giulia Cerapica, nella vita, oltre a fare la book influencer, è anche autrice e giornalista. Un caso particolare poi di una book blogger che è riuscita a integrare le parti più innovative del suo lavoro con anche quella che è la componente del lavoro editoriale più classico è sicuramente Eleonora Marsella, che nella vita è giornalista, speaker radio, e si occupa di promozione letteraria per la piccola e media editoria dalla valutazione del testo fino alla pubblicazione e tutte le seguenti attività di promozione e comunicazione dei libri. Anche Eleonora Marsella, come Veronica Giuffre, a chi le chiede se si considera una professionista e se si fa pagare, risponde fieramente che lei sì è una professionista, come testimonia la sua partita IVA. Da tutto il discorso che abbiamo fatto oggi risulta evidente che il mondo dei book influencer è un universo variegato e multiforme, un universo che coinvolge attori che si muove in lungo un continuum che va dagli hobbisti ai professionisti. Professionisti che spesso non vengono retribuiti per attività che svolgono in senso stretto come book influencer sui propri canali, ma tutta una serie di attività parallele e perpendicolari che sono riuscite a crearsi anche in altri spazi grazie alla figura che si sono costruiti come book influencer. Si tratta quindi di professionisti e professionisti che sono diventati poi giornalisti o speaker radio o social media manager che comunque si occupano di attività di promozione e comunicazione letteraria sui propri canali, ma anche in altri spazi, per esempio collaborando con editori, testate giornalistiche e quant'altro. Se oggi abbiamo affrontato il tema del professionismo che quindi chiudiamo con un effettivamente la maggior parte dei book influencer lo fanno per passione e non sono professionisti, d'altra parte però questo ambito offre anche la possibilità di diventare professionisti in determinate maniere, in determinati settori, con determinate abilità e possibilità. La prossima volta, nell'ultimo video di questa serie del professionismo esterotico di genere nel book influencing femminile, titolo lunghissimo e infinito, parleremo della parte stereotipi di genere. Quindi cercheremo di capire se le professioniste del mondo editoriale sono vittime di stereotipi legati al genere, quindi al fatto che sono donne, e di varie forme di discriminazione. Cercheremo di capirla attraverso le interviste fatte alle professioniste di cui vi ho già parlato in questo video e anche altre professioniste. Poi ovviamente al termine di tutti questi video vi lascerò a disposizione le interviste scritte che ho fatto con tutte queste donne, così che possiate leggerle per intero. Spero di non avervi annoiati troppo, grazie per essere stati con me e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao! Ciao!